Arrestato dai carabinieri di Castellaneta Marina un 29enne extracomunitario mentre stava consegnando della droga a due giovani. L'uomo sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish, 8 compresse di rivotril da 2 milligrammi ciascuna e di 10 euro. La droga sequestrata verrà analizzata nei prossimi giorni, il 29enne è stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nasce in seno al Consiglio Comunale di Taranto un nuovo gruppo consigliare denominato Taranto 2030 con Melucci sindaco. Del nuovo gruppo consigliare faranno parte i consiglieri comunali Ginalupo che ne assumerà anche la funzione di capogruppo Emilio Albani e Cosimo Ciraci. Lo scopo è non soltanto quello di dare stabilità all'attuale maggioranza consigliare e ulteriore sostegno all'azione riformatrice del sindaco Melucci per una conclusione di consigliatura proficua per la città ma anche quello di favorire le migliori condizioni per una riconferma dello stesso sindaco alle prossime elezioni amministrative. Il gruppo chiederà al sindaco Melucci un incontro nelle prossime ore. Sono 6.968 i positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute. Sono invece 31 le vittime in un giorno, lo stesso incremento di ieri. Sono 230.039 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. L'altro giorno erano stati 241.766. Il tasso di positività è del 3% in aumento rispetto al 2,3 del giorno precedente. In Puglia invece ieri sono stati registrati 306 casi su 13.585 test per infezione da covid-19 con una incidenza del 2,2% di cui 14 nuovi casi di positività nel Tarantino. Due sono i decessi registrati nel territorio regionale. Sono oltre 5 milioni le dosi di vaccino anti-covid somministrate. Sino a ieri in Puglia il dato aggiornato alle ore 17 dal report del governo. Le dosi sono il 96,3% di quelle consegnate dal commissario nazionale per l'emergenza. Somministrate a Taranto e provincia più di 2.000 dosi di vaccino negli hub vaccinali nella giornata di ieri. In totale dall'avvio della campagna vaccinale in ASL Taranto sono state somministrate oltre 701.000 dosi. Il 76% della popolazione over 12 è già vaccinata con almeno una dose e oltre 332.000 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale. A partire dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza dover prenotare. E' quanto scrive il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo in una lettera indirizzata alle regioni con la quale chiede di predisporre corsie preferenziali per l'ammissione e le somministrazioni dei cittadini in questa fascia d'età anche senza preventiva prenotazione. Al momento per gli under 18 è autorizzata solamente la somministrazione di Pfizer o Moderna. Un'esigenza che si rende necessaria prosegue Figliuolo anche in vista della ripartenza della stagione sportiva. Tale predisposizione si legge infatti nella lettera avrà risvolti positivi anche per incentivare la ripresa in sicurezza sia delle attività sportive sia di quelle finalizzate a garantire il maggiore benessere psicofisico per i più giovani. Continua il successo che Taranto sta avendo come scalo croceristico. Anche ieri oltre due terzi degli ospiti della MSC Seyside non si sono mossi dalla città per godere maggiormente della ricchezza paesaggistica e culturale del capoluogo ionico. Sono certo che i risultati di questa stagione l'attrattività turistica della città di Taranto e la professionalità dei molti operatori locali attireranno l'attenzione di numeri sempre maggiori di compagnie specializzate nel turismo croceristico portando l'infa all'economia locale. Sono queste le parole dell'assessore al turismo della Giunta Melucci Fabrizio Manzulli. Non ci sarà campagna abbonamenti per la stagione 2021-2022 per seguire in casa le gesta del Taranto. Il club Rosso Blu ha preso questa decisione a causa dell'attuale emergenza sanitaria coronavirus. Il Taranto scrive alla società Ionica in una nota comunica che non avvierà la campagna abbonamenti per la stagione sportiva a causa dell'incertezza della situazione pandemica. Le disposizioni emanate dalle autorità non garantiscono la massima capienza e la società non vuole creare discriminazioni fra i propri tifosi.